Per cortesia, scegli una carta gentilmente. Grazie, facciamo della carta in telecamera. Vista? La puoi lasciare qui gentilmente. Grazie. Io già sapevo che carta che si scelte. Infatti qui ho messo una busta con dentro una previsione. Basta aprire la busta e si può vedere la previsione corretta al 100%. Infatti ci sono tutte e 52 le carte che compongono il mazzo, quindi anche la tua. La previsione è perfetta. Tu hai scelto una carta, giusto? Cioè tra queste qui ci sono tutte. Fai così, metti la tua mano sulla carta corrispondente a nasconderla in questa maniera. Il concetto è sulla carta che hai scelto. Ti ho scelto solo? Uno, due, tre. Devo la mano, grazie. Una carta, una sola carta, si gira di dorso. La tua carta, la carta scelta, infatti tu hai scelto i due di fiori e la previsione corrisponde esattamente.